Roma Capitale partecipa allo Urban Innovative Actions, quindi sarete voi cittadini quest'anno a scegliere qual è il progetto che più preferite sarà realizzato. Io rappresento le mobilità sostenibili, quindi che tipo di progetto vi illustro? Un progetto che vede della tecnologia impiegata nel mondo della mobilità per rendere quindi i trasporti in questa città, quindi in contesto umano, quanto più sostenibili possibili e quindi quanto più a misura di cittadino. Quindi se volete che questo progetto sia realizzato votate sul sito di Roma Capitale entro il 21 febbraio. Mobilità sostenibile.